Non c'è giornata migliore quella di raccontare la storia di tante donne che hanno subito violenza ma anche raccontare la storia del Codice Viola che sta dando dei risultati molto positivi. Sì, noi ci abbiamo creduto subito, tanto perché il Codice Viola nasce poi alla fine perché i protocolli istituzionali e quelli giudiziari non erano insufficienti da solo. Quindi ci siamo resi conto che per dare forza all'attività giudiziaria, quindi all'attività della Polizia e della Magistratura dovevamo assolutamente collaborare con la nostra attività tecnica che doveva salvaguardare innanzitutto il timing e poi proteggere comunque la vittima da tutta una serie di vulnerabilità. A Crotone si può parlare di un fenomeno diffuso per quanto riguarda la violenza sulle donne ma io direi anche sui minori? Sì, la violenza è diffusa al pari però di altre realtà, non è che Crotone ha un primato. Certo i maltrattamenti, la violenza domestica è un fenomeno che vediamo moltissimo, vediamo qualche volta anche reati indotti da sostanze stupefacenti e gli stupri in percentuale un po' ridotta rispetto alle altre parti dell'Italia. Lei ha presentato un po' un report sull'attività per il codice viola anche messa in campo da lei. La rete è servita a dare un segnale positivo a questa città, da quello che ho capito e soprattutto questo mettervi tutti insieme ha permesso anche di risolvere tanti casi. Sì, assolutamente sì. Noi ci siamo trovati spesso nelle condizioni di essere stati tempestivi bravi nel gestire la vittima negli aspetti medico-legali, però poi la vittima non poteva essere collocata e grazie all'intervento di questo protocollo viola, quindi una rete con le forze dell'ordine, il centro antiviolenza, la prefettura, i tribunali, siamo riusciti a salvaguardare questo aspetto che per noi era essenziale. Gradualmente la segnalazione da parte delle vittime è molto più importante. Il ritorno giudiziario è ancora, non l'abbiamo visto, in alcuni casi, soprattutto quelli più violenti, abbiamo sostenuto l'accusa, siamo andati direttamente in tribunale a fare la nostra parte e facendo condannare autori di reato veramente in casi gravissimi, di abusi, violenze in ambienti anche malavitosi. Grazie.